Sono Pino Wilson. Il rischio della chiusura dell'impianto sportivo alla gabbatella che ospita la SS Lazio nuoto è letteralmente disarmante. Lo sport è soprattutto passione, lo sport è entusiasmo, lo sport è aggregazione, lo sport è abbraccio senza discriminazioni. Sentimenti questi che nascono con il DNA della SS Lazio nuoto, accompagnati e consolidati con gesti di solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato di noi. Riflettete. Chiudere l'impianto significa sopprimere la SS Lazio nuoto e con essa quanti hanno partecipato a che la SS Lazio nuoto divenisse così importante. Riflettete.